ciao a tutti gli amici sono le 11 di mattina qui potete vedere come le nostre cineprese sono già attive e in funzione di camilla cristofoletti in arte oaera e ma la cosa più interessante amici miei di questa stanza non potete neanche immaginarlo ma è il cactus ci riesco a dare chi non lo fa fare salvatemi salvatemi da questo inferno mi immagino l'ultima scena di oggi mi presento il mio amante di oggi si chiude Daniel e il tuo bellosmere è il tuo bellosmere e il tuo bellosmere è il tuo bellosmere e il tuo bellosmere è il tuo bellosmere allora ti devo finire male ciao ciao a potete vedere il culo da camilla venite con me camilla te stai dormendo si no 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 sveglia 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 la mia devo scoppiare ora finita l'ultima scena facciamo l'ultima scuola poi per oggi day one basta bene giornata produttiva ciao cari amici benvenuti al secondo giorno delle prese di questo fantastico videoclip di camilla cristofoletti in arte guaira c'è un bel laghetto questa ragazzi è casa di camilla cristofoletti adesso vi dico anche l'indirizzo che l'indirizzo è via pochi via pochi numero via pochi 26a quindi a tutti i fan andiamo a trovarla grazie daniel piacere daniel grazie ora gianna cosa ti ha portato qui oggi questo oggi Thomas 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 cosa ti ha portato qui oggi lei girati ah per tutti i fan proprio sfegatati sfegatati ricordo che stasera camilla cristofoletti in arte guaira a casa libera tutta la notte dopo aver fumato la mia prima sigaretta in vita mia il secondo giorno di ripresa è finito abbiamo i piedi inghiacciati letteralmente non sono i piedi Thomas e già da stasera ci stavano tutta la tutta giurata come ha scritto e poi ci sono io e niente noi andiamo a berci un tè anche tu e ci vediamo e io penso di essere che questo qua è proprio proprio il mio ultimo giorno di ripresa voglio fare quello alla stessa del posto ho aperto il video shoot day 4 salutatemi anche se non c'entrano loro ci vedete la parte come vedi la faccia è felice che ce l'ho sono le otto e mezza di mattina e siamo già in ritardo di 20 minuti sai che devo dire? oggi tiriamo la scena di abbandono, ci sarà da piangere l'ultima mia ci sarà da ridere Ciao! Saluta intanto! Eh beh, direi che... Occhio! Beh la fengo io intanto! Non lo so Non lo so A meno 7 gradi Camilla canta Mi è stato chiesto di pensare... Emozioni... Sotto sempre Abbiamo avuto i peli congelati Non è più Ma è ancora ancora possibile sapere che il piccolo per il mio cuore Sto stai facendo il piccolo Pronti! Ecco, è qualcosa che abbiamo! Nothing to lose, video shoot day 6 Grazie, hallo Son Hallo! Day 6, video shoot, nothing to lose Voi non avete visto tutti i miei tentativi di raccogliere il filo E adesso lo fa il super Thomas Vediamo qua che l'è lunga Allora, la faccia anche da vedere Terra Via Con l' DSI Sì! In questo momento ciò che ti metti la fine. Thomas! No, no! Ma che cosa stai filmando, no? Non si stai filmando, non si stai filmando. Stai filmando un posto dove tu filmi? e non è mezzo e 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si festeggia.